La AS di Pescara dal 2018 al 2021 ha affidato la maggior parte delle pratiche legali a un numero ristretto di avvocati esterni. Con un esposto all'ANAC, l'autorità anticorruzione, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Consiglio, Domenico Pettinari, chiede che venga accertata la regolarità delle procedure. Incontrando la stampa ha evidenziato che porterà avanti la battaglia per la legalità e per il rispetto dei criteri di equa ripartizione e rotazione degli incarichi. E' anche lanciato un appello al presidente della regione Marco Marsiglio e all'assessore alla sanità Nicoletta Veri. Io ho fatto un focus molto importante, un dossier. Ho visto che dal 2018 al 2020 l'AS di Pescara ha affidato ben 338 pratiche legali ad avvocati esterni e bene 140 pratiche di queste sono state affidate a soli tre avvocati. Altre 107 pratiche sono finiti ad ulteriori otto avvocati e poi scopro che nell'albo degli avvocati appunto del 2016 e 501 avvocati non hanno preso neanche una pratica, zero. L'albo aggiornato del 2020 mi fa registrare che di 339 avvocati hanno preso zero. E allora, dato che le linee guida dell'ANAC prevedono che bisogna rispettare i criteri di equa ripartizione delle pratiche, rotazione tra i professionisti iscritti all'albo e onde evitare possibili situazioni di consolidarsi di rapporti solo con alcuni, ho chiesto all'ANAC che faccia questa segnalazione, è doverosa. Chiedo altresì alla politica regionale, al Presidente della Regione Marsiglio, all'Assessore regionale della Sanità da cui dipendono le AS di sensibilizzare le AS e nello specifico l'AS di Pescara a non far ricorso sfrenato agli affidamenti esterni perché ci sono uffici interni dove ci sono avvocati stipendiali ma qualora si dovesse ricorrere all'esterno perché non ci sono le professionalità ebbene si faccia con parsimogna ma soprattutto facendo ruotare perché tutti i bravi professionisti iscritti all'albo devono poter lavorare e questo significa rispettare i criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, buon andamento della pubblica amministrazione. Credo che sia una battaglia di legalità e di civiltà e credo che la politica regionale debba dare anche un indirizzo ben preciso a dire evitiamo il ricorso all'esterno ma per se proprio dobbiamo bisogna far ruotare, ruotare tra tutti i bravi professionisti iscritti.